E adesso, amici, partiamo sparati con un uomo che è fra i fenomeni musicali più sconvolgenti del mondo. E' l'uomo che ha inventato il linguaggio ritmico di Sex Machine. Amici, per la prima volta alla televisione italiana, James Brown! Come on, come on, come on, come on! Babe, babe, babe! Ha, 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 ha! Oh! 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 I want to get out of new people! Yeah! I want to get out of new people! Yeah! Yeah! I want to get out of new people! Yeah! Can I get in to it? Like a... Like a sex solid machine! Grazie! 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 Grazie!